La vittoria è andata a Michela Pagucci, vince sulla numero 35 Luisa Zegna. La vittoria è andata a Michela Pagucci, vince sulla numero 35 Luisa Zegna. La vittoria è andata a Michela Pagucci, vince sulla numero 35 Luisa Zegna. La vittoria è andata a Michela Pagucci, vince sulla numero 35 Luisa Zegna.